Grazie per l'invito e vi porto anche i saluti del professor Tarantini che immagino lo conosciate bene. Come potete immaginare la maggior parte delle procedure che portiamo a termine nei nostri laboratori di emodinamica prevedono l'utilizzo di mezzi di contrasto che ci guidano nella diagnosi e chiaramente nelle terapie che facciamo in sala. I pazienti che giungono nelle nostre sale di emodinamica spesso hanno dei fattori predisponenti a un peggioramento della funzione renale già presenti prima di entrare in sala che possono essere un low cardiac output, una insufficienza renale preesistente, l'uso di farmaci nefrotoxici concomitante, comorbidità, età avanzata e il danno renale embolico. A questi pazienti noi somministriamo del mezzo di contrasto ed ecco che possiamo riscontrare un deterioramento ulteriore della funzione renale e quindi un C-ACI. C-ACI, la cui diagnosi si basa su un biomarcatore in un certo intervallo di tempo e una diagnosi differenziale ovviamente, cioè un ACI da altre cause. Questa che vedete è la classificazione più usata in letteratura dal punto di vista della cardiologia interventistica di C-ACI. Questa è la definizione più frequente ed è la definizione vecchia, diciamo, l'aumento di 0,5 mg di decilitro di creatinina nell'intervallo di tempo di 72 ore. La letteratura più recente ha colto le linee guida che i Dio è il 2012 e quindi il threshold dell'aumento della creatinina si è abbassato a 0,3 e come anche l'intervallo di tempo vedete che è 48 ore. E questa probabilmente sarà la definizione futura, quella che avremo nei prossimi anni, cioè un criterio diagnostico basato su nuovi biomarcatori a distanza di poche ore dalla somministrazione di mezzo di contrasto. Ma è importante il C-ACI nelle procedure di cardiologia interventistica? Beh sì, perché vedete l'incidenza non è poi così bassa, arriviamo fino al 22% nell'impianto percutaneo di valvole aortiche, le famose TAVI come vedete. Ma al di là dell'incidenza è importante la clinical relevance di questa complicanza, perché la procedura può andare benissimo, ma se noi abbiamo un'insufficienza renal acuta da mezzo di contrasto, vedete che aumenta la mortalità, aumentano il rischio di dialisi post procedurale, aumentano i sanguinamenti, aumenta la stentrombosis, l'hospital stain, aumentano un sacco di parametri che fanno del nostro outcome procedurale un outcome peggiore. Quindi il messaggio è che il C-ACI peggiora l'outcome delle nostre procedure in emodinamica. Vi sono caratteristiche del paziente predisponenti l'insorgenza di C-ACI e queste sono state declinate in questo lavoro del 2011 su radiologi, valgono per la radiologia interventistica, ma ancor più per la cardiologia interventistica. E queste caratteristiche del paziente sono racchiuse anche in questi score di rischio, questo è il Menon Risk Score pubblicato su Giacca nel 2004, che prende in considerazione diversi parametri, tra cui criteri clinici del paziente come la presentazione clinica, se c'è un'ipotensione, uno shock, l'utilizzo di contropulsatore aortico, scompenso cardiaco, l'età avanzata, la presenza di comorbidità come anemia e diabete, e il filtrato di base del paziente che giunge in emodinamica. Ma prendendo anche in considerazione la quantità di volume di mezzo di contrasto iniettato, possiamo definire questo score di rischio uno score post-procedurale, quindi che ci dice il rischio di sviluppare un C-ACI ai nostri pazienti una volta conclusa la procedura, proprio perché dobbiamo aggiungere alla nostra equazione anche la quantità di mezzo di contrasto. Sono stati sviluppati anche degli score di rischio, dai più semplici ai più complessi, per predire il rischio di C-ACI prima della procedura. Tra questi l'ACEF Score, molto semplice, prende in considerazione età, creativina sierica e frazione di enzione. E vedete come la performance di questo score di rischio molto semplice sia valida. Ma poi vi sono anche degli score di rischio più complessi, che prendono in considerazione più variabili, e questi vengono anche forniti, si possono utilizzare anche attraverso delle semplici app sul cellulare a letto del paziente. Un concetto importante è che meno mezzo di contrasto noi somministriamo ai nostri pazienti, meglio è. E c'è stato anche chi ha provato a capire se c'è un threshold, una quantità, un cut-off di ML, di mezzo di contrasto, che sia sicuro somministrare ai nostri pazienti, oltre il quale andiamo in rischio al C-ACI. E questo era stato individuato intorno ai 140 ML. Ma Roxana Meran ci dice che in realtà i pazienti non sono tutti uguali, quindi è difficile trovare un cut-off di ML in mezzo di contrasto che valga bene un po' per tutti. Questo deve essere un po' adeguato sul nostro singolo paziente. E per questo sono state sviluppate diverse equazioni per cercare di predire quello che è il maximum radiographic contrast dose, cioè il livello oltre al quale dobbiamo cominciare a pensare di fermare la nostra procedura per evitare un danno renale acuto. Queste formule, devo dire che non vengono utilizzate spesso nei laboratori di emodinamica, ma sono state validate in diversi studi. Un concetto importante che emerge dalla letteratura più recente è che a parità di complessità di pazienti, diversi operatori utilizzano diverse quantità di mezzo di contrasto. Quindi è vero che per fare la procedura è necessario il mezzo di contrasto, ma è importante anche educare l'operatore a utilizzarne la minor quantità possibile. Ci vengono in aiuto dei device, dei dispositivi, che sono stati sviluppati proprio con l'obiettivo di risparmiare mezzo di contrasto. Questo è il divert, che è un sistema sostanzialmente a valvole collegato alla siringa con cui si può iniettare manualmente il mezzo di contrasto. Ad ogni iniezione parte del mezzo di contrasto viene sottratto al paziente, mantenendo comunque delle immagini radiografiche valide. Questo è un caso che abbiamo fatto a Mestre, l'abbiamo testato sul nostro paziente. Vedete come circa il 50% dei mezzi di contrasto in realtà sia stato escluso dal paziente, cioè non sia arrivato al paziente. E nonostante questo le immagini erano assolutamente valide. Purtroppo il trial su questo dispositivo ha dimostrato come fosse sia efficace nel ridurre la quantità di mezzo di contrasto somministrati ai pazienti, ma non è emersa una significatività statistica per quanto riguarda la riduzione di incidenze di CIACI. C'era un trend, ma non una significatività statistica. Ora, qui probabilmente c'è stato un bias di selezione dei pazienti, la numerosità non era poi così elevata, ma il fatto che ci sia una plausibilità biologica e il trial clinico poi non sia significativo, è un qualcosa che spesso è un concetto ricorrente nei trial che riguardano il CIACI. Questo è l'evoluzione del dispositivo che vi ho appena fatto vedere e ha il vantaggio di essere collegato direttamente all'iniettore automatico che è molto più diffuso in Europa e in Italia rispetto agli Stati Uniti che utilizzano le siringhe e quindi di più facile applicazione. Un altro concetto importante è che abbiamo delle strategie alternative per evitare l'iniezione in più di mezzo di contrasto nel nostro paziente? Sì. Ad esempio l'imaging intravascolare. Noi abbiamo dispositivi tipo l'Aivus e l'OCT che ci danno una caratterizzazione anatomica e morfologica delle nostre placche all'interno delle coronarie e ci permettono di guidare la diagnostica e l'interventistica minimizzando quanto più possibile l'utilizzo di mezzo di contrasto. Questa è una casistica pubblicata da Zalini in cui venivano fatte procedure di angioplastica con 8-10 cc di mezzo di contrasto quindi quantità irrisorie, peraltro diluito, in cui il mezzo di contrasto era affiancato a queste metodiche di imaging intravascolare. Vedete come nei pazienti trattati in questo modo con questa ultra low contrast dose PCI l'incidenza di CH fosse zero. Un altro device importante che ci può aiutare nella nostra sala di emodinamica per quanto riguarda l'interventistica coronarica è la valutazione funzionale che noi chiamiamo fisiologi attraverso guide di pressione. Queste guide di pressione permettono di misurare il calo pressorio attraverso le stenosi coronariche e o in condizioni basali o in condizioni di iperemia indotta da adenosina intracoronarica o sistemica il software ci dà un valore, c'è un cut off che non è altro che l'indice di quanto possa essere significativa o meno dal punto di vista funzionale questa lesione e ci guida nel trattamento che può essere interventistico oppure semplicemente medico di questa lesione. Per quanto riguarda la prevenzione del CIACI prevenzione di tipo farmacologico sapete che questo studio ha un po' messo una pietra tombale sull'utilizzo del sodio bicarbonato e l'N-acitilcisteina che peraltro comunque è ancora abbastanza utilizzata quantomeno consigliata in alcuni protocolli e quindi c'è un po' un mismatch tra quello che è evidente dalla letteratura e quella che è la pratica clinica quotidiana. Sicuramente il concetto più importante per quanto riguarda la prevenzione del CIACI nel laboratorio di emodinamica riguarda l'idratazione cioè l'idratazione è sicuramente la misura preventiva che ha dato più evidenze dal punto di vista scientifico. Le linee guida cardiologiche ci dicono di adottare questi protocolli di un milligrammo pro chilora nelle 12 ore prima e continuata per 24 ore dopo la procedura eventualmente da adeguare in base alle necessità del paziente ma senza anticipare troppo la prossima relazione il concetto che emerge nei dati più recenti è che l'idratazione non deve essere uguale per tutti l'idratazione deve essere un qualcosa di modulato sul paziente in particolare sui suoi parametri emodinamici e il suo stato di idratazione. Anche le statine hanno dato risultati promettenti per quanto riguarda l'efficacia nella prevenzione del CIACI e devo dire che nei nostri laboratori quasi tutti i pazienti sono già in terapia con statina. Le altre strategie in realtà non hanno dato grandi evidenze. Per quanto riguarda i device il RenalGuard è un dispositivo che permette una diuresi forzata con rimpiazzo euvolemico di idratazione per i nostri pazienti e questo dispositivo ha dato risultati piuttosto promettenti per quanto riguarda la riduzione dell'incidenza del CIACI sia nei pazienti trattati per malattia coronarica con angioplastica ma anche in studi recenti in pazienti sottoposti a TAVI quindi all'impianto percutaneo di protesi valvolari aortiche. C'è una sorta di saga che riguarda la prevenzione CIACI ed è quella del confronto tra mezzi di contrasto iposmolari o isosmolari. Questo lavoro di McCollough di Jack 2006 mostrava come appunto in questa meta-analisi la incidenza di CIACI nei pazienti sottoposti ad esami con isosmolare fosse inferiore rispetto a pazienti sottoposti ad indagini con iposmolare. E sulla base di queste evidenze le vecchie linee guida della cardiologia interventistica europea del 2014 prendevano in considerazione proprio questo concetto e consigliavano l'utilizzo di mezzo di contrasto isosmolare nei pazienti a più alto rischio di CIACI da preferire appunto l'isosmolare rispetto all'iposmolare. Le recenti linee guida del 2018 della rivalsicolazione miocardica hanno sostanzialmente abolito questo consiglio e in classe 1A consigliano che vengano utilizzati indipendentemente o l'isosmolare o l'iposmolare nei pazienti sottoposti ad indagini contrastografiche prendendo per buoni un po' tutti quegli studi che danno risultati neutrali per quanto riguarda l'incidenza di CIACI nei pazienti trattati con sottoposti ad esami con mezzi di contrasto isosmolari o iposmolari. Ma vedete come in realtà in letteratura è vero che vi è una grande quantità di evidenza che dice che vi siano risultati neutrali sia per quanto riguarda clinici randomizzati sia per quanto riguarda meta-analisi però vi sono altrettanti studi che invece concludono per una maggior sicurezza dell'isosmolare. Quindi sostanzialmente se la verità non è qua e magari non è neanche qua probabilmente è nel mezzo ma sicuramente non qua quindi vi è sicuramente un gradiente di maggior sicurezza dell'isosmolare. Ora dati conclusivi probabilmente li avremo in futuro con l'utilizzo di criteri diagnostici forse più appropriati quindi basati non soltanto sulla creatinina ma anche su nuovi biomarcatori. Voglio solo spendere due parole per questo studio il Valor Trial che è uno studio che ha confrontato un iposmolare con l'isosmolare concludendo che non vi erano differenze significative in termini di incidenza di ciachi e infatti è uno di quei trial che sta nel mezzo cioè con risultati neutrali. Se andiamo a vedere però un sottogruppo di pazienti ad alto rischio come ad esempio i pazienti diabetici vedete che i pazienti sottoposti all'indagine con l'isosmolare avevano un'incidenza di ciachi significativamente inferiore rispetto all'iposmolare quindi veramente un trial neutro ma non lo so. Allora i miei take on message sono i seguenti che ci sono diversi attori coinvolti nell'outcome renale dei pazienti che vengono nei laboratori di emodinamica c'è il paziente con le sue comorbidità con la sua baseline GFR con la sua presentazione clinica c'è il medico, l'operatore che chiaramente ha a che fare un po' con il suo grasso di expertise con il fatto di essere stato sensibilizzato o meno sul possibile danno renalo dai mezzi di contrasto che deve tener conto dell'interazione tra farmaci nefrotossici e che soprattutto deve porre le indicazioni corrette e poi ci viene in aiuto anche la tecnologia con l'utilizzo di mezzi di contrasto a minor rischio di CIACI devices, ricerca futura e nuovi biomarcatori. I take on message sono quindi che il CIACI sicuramente ha un impatto sull'outcome delle nostre procedure i pazienti vanno stratificati per il rischio di CIACI che i nuovi biomarcatori potranno aiutarci nella diagnosi precoce di CIACI e potenzialmente potranno anche guidarci in un treatment precoce. L'idratazione e l'espansione volemica è alla base della prevenzione del danno renale da mezzo di contrasto bisogna ridurre quanto più possibile la quantità di mezzo di contrasto da somministrare ai nostri pazienti e i mezzi di contrasto a bassa osmolarità sono probabilmente validissimi per la maggior parte dei pazienti forse, viste le evidenze abbiamo a disposizione l'isosmolare ecco, forse è il caso di usarlo nei pazienti a più alto rischio di CIACI per quanto riguarda l'ambito interventistico cardiovascolare ci sono diversi documenti di consenso da parte di varie società scientifiche internazionali in Italia non c'è un vero e proprio documento ci stiamo lavorando ho avuto l'incarico dal professor Tarantini di coordinare questo progetto di consensus a cui partecipa la nostra società italiana di cardiologia interventistica con questo panel e abbiamo la partnership diciamo della società italiana di nefrologia che ha messo a disposizione degli esperti per supervisionare ai lavori e darci dei validi consigli il workflow del nostro consensus project è stato il seguente abbiamo individuato 10 key points sull'argomento quindi definizioni CIACI, epidemiologia, fisiopatologia e via dicendo abbiamo effettuato una revisione accurata della letteratura scientifica abbiamo prodotto 10 risposte a questi 10 punti e queste 10 risposte saranno oggetto di un consensus meeting che avverrà tra circa due settimane a Milano grazie mille grazie mille grazie mille